Fantastico! La cripta è costruita come un holocron gigante! Quella parete non mi convince. Sì, controlliamo. Ok. Offro le memorie della nostra civiltà a coloro che verranno. Conoscenze e sviluppo tecnologico non ci hanno salvati dall'estinzione. I dogmi ci hanno distolti dalla via dell'equilibrio e l'orgoglio ha preso il sopravvento. Quanto più cercavamo il controllo, tanto più ci smarrivamo. Condurrò i riduci del mio popolo nel grande ignoto, nella speranza di trovare finalmente pace. Dovrei insegnare loro le vie della forza. Maestro Castis... Cominceremo con la preparazione fisica. Che cos'è il forza? Radunatevi tutti! Maestro Castis... Pensi che l'impero ci troverà? Ok. 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 Trovano. È l'impero. Gli inquisitori ci hanno trovati. Maestro Castis... Maestro, dovremmo combattere. Arrivano. Alle trincee! Muoviamoci. Proteggeteli! Catturate i piccoli Jedi. Uccidete gli altri. Sono veloci! Fuoco! Cercate, non possono essere lontani. Bersaglio in vista! Aiutami, maestro Castis! Avanti! Sparpagliarsi! Sparpagliarsi! Ce ne sono altri? Sì! Non puoi nasconderti. È finita! Cal Castis! Arrenditi ora e forse risparmieremo i più giù. Esatto. In ginocchio. Ho paura! Ora, che è successo? Maestro Castis, perché...? Maestro Castis, perché...? Maestro Castis, perché...? Non è nobile. Abbiamo legato... Uccideremo la nostra parte. Nessun c'è giù. Irrani a fare. Non è vero, è vero. Il rimacuto per farlo. Chi si rilasca? L'imago. Non è vero. Corso l'imago. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Holocron? Certo che no. Difendiamo il nostro orgoglio. Purtroppo il tuo è costato le vite di tutti i bambini sensibili alla forza su questa lista. E con loro c'è anche la tua. L'hai detto tu, Triller. Sono testardo. Niente di grave. È così che ti ha destrato, Sheer? Mi divertirò a ucciderti. Qui il mio lavoro è finito. Alla prossima. Attento con quell'affare. È stato all'inferno. Non andare. Dobbiamo restare insieme. No, proverò a distrarli, ma tornerò presto, ragazzi. Ti affido ai più giovani, Trilla. Che la forza sia con voi. Maestra, non lasciarci! Trilla, che ne sarà di noi? Stai tranquilla. Se succom Отbelli. S plissi. Aspettiamo! Cosa? Iniziamo! È eserci. Iniziamo! 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 Trillo no 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 ok ci saranno un po' di stormtrooper da eliminare lasciamoli a ruscona scontare sparare spostare sparare hanno fatto fuori il grospo non ci credo Sì, qualcun altro attacchi. Ancora, col tour. Tu li hai uccisi tutti. Nessuno è così per te. Eccoti. Ti resta poco da vivere. Ah, cavolo. Buon viaggio. Lo giusto così per vedere. No, magari mi davano il vestito d'inquisitore. No, magari mi davano il vestito d'inquisitore. C'è qualcosa lì. Nemico localizzato. Procedo. È ferito. Convergere sul bersaglio. Ho bisogno di tempo. Coprimi. Informazione. Non è un bersaglio facile. Ricevuto forte e chiaro. Col... Non ti darò tregua. Fare fuoco appena possibile. In fretta, finiamola. È un , non ti darò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.